buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial che vuole far vedere come compilare la domanda di passaggio di ruolo per esempio per un docente titolare alla scuola secondaria di secondo grado che chiede il passaggio alla scuola secondaria ma di primo grado dunque un vero e proprio passaggio di ruolo innanzitutto si va sulle istanze online e ci si si accede con lo speed dopodiché si deve andare proprio a trovare l'istanza riferita al grado per cui si chiede la domanda e non per cui si è titolari per esempio la domanda per la mobilità verso il primo grado andando alla compilazione si noterà che prima c'è una pagina come sempre per l'informativa della privacy del del trattamento dei dati personali si fa si clicca si slasha questo letto e accetto i termini si fa avanti si entra a facendo avanti in una pagina dove c'è la grafica personale facendo nuovamente avanti si entrerà nella pagina per la compilazione della domanda quindi entrando in questa pagina si va a compilare la domanda di passaggio di ruolo ecco il passaggio di ruolo verso per la scuola secondaria di primo grado facendo inserisci andiamo a inserire la domanda troviamo le sezioni da compilare non troverete le esigenze di famiglia perché per il passaggio di ruolo l'esigenza di famiglia non si compila però troverete l'anzianità del servizio che sapete già come compilare e dove metterete e tutti i dati relativi al ruolo di attuale appartenenza per esempio 14 anni alla continuità del servizio nella scuola di attuale titolarità per esempio nella casella 4 metterete 10 anni in cui per esempio nel mio caso sono titolare da 10 anni nella stessa scuola dopodiché guarderete se nelle altre caselle dovete compilare qualcosa chiudendo poi l'anzianità del servizio andate a compilare i titoli generali per esempio se avete l'idoneità un pubblico concorso nel ruolo di appartenenza non nel ruolo della scuola secondaria di primo grado dove chiedete il passaggio ma nel ruolo di appartenenza attuale per esempio se avete un pubblico concorso fate sì e poi andate a vedere di compilare gli altri titoli generali di cui siete in possesso guarderete se andare a compilare proprio come per il passaggio di ruolo proprio la classe di concorso che voi andate a richiedere ecco la classe di concorso per la quale si richiede il passaggio se dovete dire se avete i requisiti cioè se avete l'abilitazione in questo caso noi chiediamo il passaggio per matematica e scienza la scuola secondaria di primo grado per cui il sottoscritto possiede riabilitazione se nel caso il candidato abbia presentato più domande di passaggio deve indicare l'ordine di trattamento cioè se avesse più abilitazioni nel primo grado dovrebbe dire quale dare in questo caso noi è unica diamo uno poi facciamola chiudiamo questa facciamo la scelta di tipo di posto che è un posto di natura normale e diamo questo questa priorità del posto normale e poi andiamo a inserire le preferenze con che sapete già guardando il video sulle preferenze come riempirlo dopodiché allegate la documentazione dell'anzianità del servizio dei titoli generali dell'abilitazione posseduta per il passaggio di ruolo e potete tranquillamente salvare la domanda e inoltrarla speriamo che questo video sia utile a tutti i nostri telespettatori seguitici ancora perché ci saranno ulteriori video sulla mobilità 2023 2024 arrivederci a tutti grazie a tutti grazie a tutti